Ciao a tutti, sono qui per presentarvi un nuovo progetto di legge del Movimento 5 Stelle Lombardia che è molto tecnico, però riguarda una materia importantissima su cui vorrei coinvolgervi che è il trasporto pubblico locale. Questo progetto di legge revisiona una legge regionale già esistente in Lombardia che è la legge stabilità 2017-2019 numero 35 del 2016. Perché si è resa necessaria questa modifica all'articolo 5 della legge regionale 35-2016? In pratica noi chiediamo l'abrogazione di questo articolo a seguito di un intervento dell'Antitrust, l'autorità garante della concorrenza e del mercato che ha rilevato alla giunta regionale delle gravi criticità insinte proprio dentro l'articolo 5. Vi stiego meglio, che cosa prevede questo articolo? Prevede che due società di cui almeno una quotata sui mercati regolamentati ed entrambe le società gestiscono il trasporto pubblico locale se si fondono o avviene una cessione di quote azionarie entro il 30 giugno 2017 e poi finalizzano questa operazione entro il 31 dicembre 2017 il contratto di servizio afferente a una delle due società estende la propria durata per il numero di anni pari a quello dell'altra società. Vi faccio un esempio pratico per farvi capire meglio. Avrete sentito in questi giorni spesso parlare sulla stampa di fusione fra Trenord e ATM. ATM è una società partecipata al 100% dal comune di Milano ed opera sul trasporto pubblico locale di Milano e Interland. Trenord è una società partecipata al 50% da Ferrovie Nord Milano che a sua volta è partecipata da Regione Lombardia ed è quotata. Se Trenord e ATM si fondessero, nonostante il contratto di servizio del TPL di ATM è in scadenza nel 2017, la fusione consentirebbe l'allungamento della durata di questo contratto di servizio in scadenza al numero di anni per cui è vigente il contratto di servizio di Trenord che scade nel 2020. E qual è il vero problema di questa estensione della durata fino al 2020? Che secondo le antitrust questo provocherebbe un ritardo nell'avvio della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale nell'intera area di Milano. In buona sostanza una distorsione del mercato in contrasto con i principi di libera concorrenza. Per questo il Movimento 5 Stelle ha immediatamente fatto un'interrogazione diretta alla Giunta per chiedere come intende comportarsi alla luce di questo richiamo dell'antitrust. Ma naturalmente a scopo preventivo noi abbiamo già preparato un progetto di legge che chiede l'abrogazione di questo famoso articolo 5. L'abrogazione dell'articolo 5 è motivata anche da un'altra ragione esposta molto bene dall'antitrust e che è la seguente. C'è un orientamento della Corte Costituzionale che dice molto chiaramente che nell'ambito della tutela della concorrenza come ad esempio il caso della durata dell'estensione ai contratti di servizio di trasporto pubblico locale la materia è di esclusiva competenza statale e dunque non può essere affrontata attraverso una legge regionale come ha tentato di fare questa maggioranza proponendo in corsa un emendamento che poi è stato approvato. Quindi le ragioni che ci hanno portato a presentare questo progetto di legge sono sicuramente quella di non compromettere il processo di liberalizzazione in atto nel settore del trasporto pubblico locale e poi sicuramente per dare concretezza al richiamo dell'antitrust che ci ha fatto palesemente capire che l'articolo 5 di questa legge non va bene. Il nostro progetto di legge è quindi molto semplice da vedere e si compone di due soli articoli il primo consiste nell'abrogazione dell'articolo 5 il secondo che risponde a un'esigenza di indicare se ci sono maggiori oneri se il progetto di legge è fissa maggiori oneri in carico a Regione Lombardia è l'articolo in cui si dice che questa legge non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di Regione Lombardia. A questo punto noi vi invitiamo a inviare qui su Lex tutte le vostre osservazioni utili su questo progetto di legge. Grazie!